Cari amici italiani e siciliani, in questi tempi difficili per il vostro meraviglioso paese vorrei mostrare la solidarietà con voi, soprattutto da parte del mio popolo ucraino e a me personalmente come un politico e il vostro amico ucraino. Questa epidemia globale è inaspettamente arrivata a vostra e adesso a nostra casa. Però eravate primi un'Europa per affrontare la sfida e avete mostrato a noi, altri europei, come si deve combatterla con la massima solidarietà della società. Vorrei confermare che il popolo ucraino rimanera sempre a vostro fianco ricordando la vostra accoglienza che avete fatto durante anni per i nostri migranti. Restiamo sempre pronti per aiutarvi. Ora tutta Europa deve dare manu di aiuto per Italia da Lisboa a Kyiv dobbiamo esere un'itì per voi. Prebbiamo tuttì per voi. Diovi proti džera.